A regionale di Giarre il San Luca passa il primo turno della fase nazionale di Coppa Italia grazie alla rete di Catania ma perde il record di imbattibilità stagionale. Un Giarre inarrestabile ma nonostante ciò i calabresi portano a casa un risultato utile al passaggio di qualificazione ai quarti di finale. Al terzo minuto Carbone si esibisce con un tiro finito a lato per farsi poi passare un'altra conclusione al nono minuto da Barbagallo. Al dodicesimo il Giarre avanza e Capitao spedisce la palla a fil di traversa e nel diciassettesimo i siciliani passano in vantaggio con un calibrato pallonetto di Cocimano. Al venticinquesimo Capitao di testa manda di poco la palla sopra la traversa. Dopo due minuti è l'arbitro che annulla per fuorigioco un gol dei calabresi e al trentesimo una punizione di Romeo viene respinta in corner da Barbagallo. Capitao al quarantaisettesimo segna ma l'azione viene annullata anch'essa per sospetto fuorigioco. Alla ripresa Cocimano manda la palla di poco sopra la traversa e man mano i ragazzi di Mister De Angelis cominciano a crescere ma al quinto minuto del secondo tempo arriva il raddoppio del Giarre grazie a una prudezza di Maimone direttamente dalla bandierina. Un Giarre ormai a pieno ritmo incalzante che avrebbe potuto replicare quando al nono minuto Giuffrida dalla propria metà scende solitario in fascia avversaria e di pochi passi ingenuamente si fa respingere da Colleio la conclusione. Maimone poi ci prova mandando l'incrocio e al tredicesimo Carbone si fa passare la conclusione riavvicinata. Poi la rete decisiva per la qualificazione il Giarre in attacco sotto la rete avversaria ma un arrato passaggio all'indietro concede la palla ai calabresi lessi nel contropiede. Il Giarre insiste e al diciottesimo Pitto evita che il diagonale in aria di Cocimano entri in rete. Al quarantesimo Abate può mandare la palla dentro con un colpo di testa all'indietro ma anche stavolta Pitto salva mezzo metro dalla linea respingendo. Al quarantatresimo De Salvo manca la rete di un soffio e un traversone di Maimone entra in rete ma il portiere di Calabresi è già a terra colpito. L'arbitro tra le proteste dell'Etnei annulla il gol e concede un calcio piazzato da fuori aria al Giarre e la partita finisce qui. I tifosi Etnei che avevano assaporato la qualificazione vedono il sogno spegnersi. I tifosi Etnei che avevano assaporato la qualificazione vedono il sogno.